Ciao a tutti, sono Paolo, faccio il pittore e innanzitutto chiedo scusa per l'imbarazzo magari che si può percepire tra me e la fotocamera, però questo è il mio primo video che faccio in cui parlo, questo è il primo video in cui parlo e quindi sono molto imbarazzato perché ho tanta paura di sbagliare e ci tengo appunto a precisare che non sono, non mi reputo un maestro, un pittore affermato, un artista arrivato, ma un ragazzo che ha alle sue spalle comunque qualche anno, sono al primo anno del biennio di Belle Arti nel corso di pittura e dipingo comunque da 5 anni, che sono pochissimi però mi hanno dato modo di formulare dei consigli, dei modi per migliorare, che poi voglio condividere con voi, come se fossimo una grande compagnia d'arte. Un punto di incontro, questo canale potrebbe essere un punto di incontro per me con tanti altri artisti affermati o giovani artisti per poterci scambiare le nostre idee, ciò che pensiamo sull'arte. Mi piacerebbe molto come cosa, infatti mi imbarazza molto come cosa, sapete quanto è difficile crescere nel mondo dell'arte? In primis vi chiedo di lasciare un commento, soprattutto di condividere la vostra idea in base a ciò che dirò poi, ma anche di condividere le vostre esperienze, di lasciare un mi piace se potreste appunto ritenere utile ciò che sto per dire e niente, basta con questo questa premessa e cominciamo a parlare di ciò che voglio appunto raccontarvi. La prima cosa fondamentale per chi vuole intraprendere questa carriera è fidatevi, è una cosa che può dirvi chiunque è universale, volontà e passione. Cioè non potete iscrivervi in palestra e credere che dopo un mese avrete già raggiunto i vostri risultati, a meno che come nell'arte non siate dotati di una genetica, di un genio, di un estro creativo così elevato, o magari questo potrebbe essere proprio il video adatto per buttarvi nella mischia, però sempre con l'idea che ci vuole del tempo. Questi due dipinti che ho alle mie spalle sono una traccia di ciò che ho fatto. Qui c'è un autoritratto realizzato nel 2017, magari vi farò vedere un'immagine migliore, e poi c'è questo, l'autoritratto che sto ancora realizzando, è ancora in fase di costruzione, però naturalmente si percepisce una trama pittorica diversa, un disegno diverso. Naturalmente non sono passato da questo a questo così. Vedo adesso di farvi vedere tutti gli autoritrati che ho fatto, ma non perché sono un narciso, mi piace appunto vedermi allo specchio, perché sì, la maggior parte di questi sono realizzati vedendomi allo specchio, ma perché io preleggo una pittura dal vero? È chi migliore modello di me stesso, che so quali sono i miei tempi, quanto tempo ho bisogno, come devo stare, come mi devo impostare, ma questo è un altro discorso. Quindi collegato a questo, al progresso, collegato alla volontà di fare le cose, ci deve essere anche una volontà nello studio. Anch'io inizialmente ho trovato tardi il mio metodo di studio, al liceo non è che andassi così bene nello studio, però poi grazie all'accademia, a questa esigenza che avevo nel capire le cose, nel voler capire le cose, ho incominciato a leggere, non soltanto manuali sull'arte, ma anche romanzi, tutto. Leggere lo studio non si intende soltanto studiare, sapere quando è nato e quando è morto Leonardo da Vinci, questo è più un fatto storico, ma saperebbe tutto che cosa un pittore vuole esprimere, voleva esprimere o vuole esprimere nel caso di pittori contemporanei, ma lo studio si intende una ricerca contemporanea. Il pittore deve essere l'artista, deve essere immerso nel mondo, non dell'arte, ma nel mondo attuale, perché noi siamo figli del nostro tempo. Attraverso la nostra arte mostriamo chi siamo, ma se non sappiamo che cosa ci circonda, avremo ben poco da... avremo molte difficoltà nel saper trovare un linguaggio comunicativo che funzioni con le persone poi che si interfacciano al nostro lavoro. E quindi lo studio, naturalmente è un processo mentale, si collega a uno studio pratico, la pratica. Non possiamo scrivere una poesia se non sappiamo parlare l'italiano. E chissà io quanti errori avrò commesso in questo video di grammatica, ma è così, ma è così, si impara sempre qualcosa, non bisogna mai sentirsi arrivati. Guardiamo Roberto Ferri, lui continua ancora a fare degli studi anatomici, infatti io prendo molto esempio, infatti qua vi farò vedere qualche studio anatomico che ho realizzato, perché bisogna sempre studiare, nel mio caso, in cui predico una pittura figurativa, studio la figura umana in tutte le sue forme, quindi a livello scheletrico delle ossa, a livello muscolare, a livello dinamico, nelle espressioni del volto, specialmente io che sono maggiormente un ritrattista. E lo studio è qualcosa che deve essere, la pratica deve essere qualcosa che bisogna sempre portare avanti e come possiamo rendere utile questa pratica e anche aiutare noi stessi a aumentare la nostra autostima e tenendo traccia dei progressi. Come fondamentalmente possiamo farlo? Io consiglio di comprare uno sketchbook, un quaderno degli schizzi, dove possiamo puntare le nostre idee, i nostri disegni, tutto ciò che ci passa per la mente, non disegni che devono essere per forza delle vere e proprie opere d'arte. Togliamoci dalla mente che ogni cosa che facciamo è un'opera d'arte. Lo sketchbook quindi è fondamentalmente utile per noi, possiamo farci farci tutto. Questo è il mio sketchbook. Un errore che ho commesso e quindi ti dico di non farlo, semplicemente è di prenderne uno, incominciarlo e finirlo. Perché io ne ho avuti tre e quindi mi trovo semplicemente con tante idee buttate lì, tante idee buttate lì e non ho per qualche anno, non ho veramente avuto idea di come andare ad ordinare queste mie idee cronologicamente parlando. Per poi decidere di completare questo, di fatti mancano veramente 20 pagine. L'ultimo consiglio che mi è venuto in mente e non ne avevo preso appunti, però mi è venuto così, è quello di fregarsene degli altri. Siamo persone con una nostra sensibilità. Abbiamo bisogno del confronto, ma che sia un confronto costruttivo. Se viene tizio e ti dice il tuo lavoro fa schifo, fidati che stai seguendo la strada giusta. Perché chi ti critica o sta indietro rispetto a te o addirittura sta a zero. Fidati soltanto delle persone per la quale hai una stima, che ti senti collegato a loro. Quelle persone che hanno una sensibilità molto pura, elevata e non quelle persone che, parlo per esperienza, vengono da te. Eh ma tu fai così, non sei buono, dovresti fare quello. E poi magari non sanno nemmeno tenere un pennello tra le mani. Spero di trovare tanti commenti sotto questo video sui vostri pensieri sul latte. Il mio obiettivo è trasformare il mio canale in un, appunto, un luogo d'incontro dove giovani artisti o artisti più affermati, amanti dell'arte, possano scambiare le proprie idee senza arrivare a fare guerre, no? Ma quello è così, quello è colà, queste cose non si fanno, si fa così. Ma scambiarci dei consigli, un po' come i caffè francesi, dove si andava il pittore, andava il critico, andava chiunque fosse interessato al modo dell'arte per scambiarsi, per scambiarsi quindi idee, condividere esperienze. Ecco perché ti chiedo di, se vuoi, di lasciare un commento, di dire la tua, se questi consigli possono essere utili e se metterai in pratica questi, questi consigli. Arrivederci!